Abbiamo terminato da poco quella che è stata una nuova tappa del Moviment Tour. Oggi eravamo a Fano dove si presenta come candidato sindaco Adaro Miccioli. È stata una delle esperienze positive e belle come sono ogni volta che ci ritroviamo di nuovo a confronto con i cittadini. Si è parlato di sanità, si è parlato di trasporti, si è parlato di politica. Come finalmente bisognerebbe cominciare e continuare a fare. La politica è la partecipazione dei cittadini alle scelte delle istituzioni. Adaro oggi l'ha dimostrato, ha condiviso con i propri cittadini quelle che sono le sue scelte per cambiare lo stato attuale delle cose. Noi come parlamentari siamo qui per portare le nostre esperienze all'interno di Senato e Camera dei Deputati. Speriamo di poter continuare e speriamo che l'affluenza così come era oggi sia sempre più numerosa. La politica vi appartiene, ricontinuate a farla e fatela con il Movimento 5 Stelle.